Comprendetemi, novembre con i primi freddi mi angoscia e vado in cerca di certezze spesso ritrovo nei numeri c'è chi va in piazza a protestare perché un assessore è stato dimezzato legittimo io vedo i conti quelli che vedete sono tre tabulati si tratta dell'inventario del patrimonio del comune c'è anche scritto chi ha pagato e chi non ha pagato c'è chi ad esempio non paga da quasi dieci anni guardate questo è l'affitto 92 92 e questo è quanto il comune deve ancora incassare quello di prima era un appartamento ma guardate questo caso è la pinettina di uno stabilimento balneau c'è chi non paga da dieci anni la bella somma di 13.453.7 euro all'anno che cosa voglio dirvi a novembre e con i primi freddi che avete voglia a scendere in piazza a protestare a indignarvi c'è sempre chi non paga non paga per dieci anni e lo fa con la complicità lasciatemelo dire di chi dovrebbe controllare benvenuti a castellaneta cittadina del regno d'italia anno 2014 quasi 2015